Buongiorno amiche, vi faccio vedere come faccio il cordoncino nella mia macchina che non è una macchina professionale per fare il cordoncino ma una semplice macchina da cucire. Sintonizzando il punto a zig zag il più piccolo possibile vado a fare un zig zag fittissimo in questa riga qua dell'uncinetto, nell'ultimo cordoncino dell'uncinetto. Però deve essere imbastito, ogni lancetta di punto alto che c'è alla fine deve essere imbastito appunto indietro affinché nel lavoro questo qui non dovrebbe camminare completamente perché se non è imbastito bene poi il cordoncino non vi viene diritto. Ecco vado a eseguire. L'occhio sempre fermo nell'ultimo punto dove si deve andare a fare il cordoncino. Per favore assistente guarda il cordoncino già fatto con il cellulare e fai vedere come è venuto. Ecco vi auguro un buon lavoro e a presto. Ecco vi auguro un buon lavoro e a presto.